Roma 24 gennaio 2015, evento del Movimento 5 Stelle, notte dell'onestà interverranno dalle ore 17 in poi Fedez, Sabina Cuzzanti, Dario Foi, Jacopo Fo, Enrico Montesano, Salvatore Borzellino, Ferdinando Imposimato, Andrea Sartoretti, Claudio Santamaria, Claudio Gioia e tanti altri che stanno dando la loro adesione in queste ore. Come potete vedere è giornata di sole, eccolo qui fuori dall'euro dice il Movimento 5 Stelle, ecco qui fuori dall'euro e i 13 punti appunto a sostegno delle imprese e sull'economia. Abbiamo qui un sostenitore del Movimento 5 Stelle, giusto, dello staff, onorevole no? No, per una no, attivista del Movimento 5 Stelle. Si comincia alle 5, è giusto? Grillo ci sarà? Grillo? Ci sarà Grillo, ecco abbiamo avuto una conferma dallo staff, grazie, quindi è un'ottima notizia, Grillo sarà sul palco insieme a tanti altri, si comincia verso le 5, 5 e mezza.